Bene, siamo qui il venerdì sera in piena mobida, siamo in via Torino, direi che la situazione è assolutamente positiva perché c'è tanta gente ma non c'è la calca, non ci sono aggregazioni, c'è tanta gente che si sta divertendo. Teniamo presente che siamo riduci dalla messa in campo di una strategia diversificata che è quella che parte dal presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine ma anche dagli steward urbani che stanno girando per prevenire, ovviamente per controllare il territorio ma per prevenire che ci siano situazioni di violenza o di riscia. Per cui sta andando assolutamente tutto bene, ovviamente si chiede sempre l'utilizzo della mascherina quando si va in giro, non quando si sta seduto ovviamente ai tavoli ma quando si va in giro. Ovviamente il rispetto non è ovviamente al 100% però la situazione è assolutamente tranquilla ed è quello che volevamo. Noi stiamo mettendo in campo tutte le forze possibili, lo faremo anche nei prossimi fine settimana e fino a tutta l'estate. Per cui direi che rispetto agli episodi che si sono verificati all'inizio della Movida, cioè qualche settimana fa, rispetto ad adesso siamo in una situazione decisamente migliore e sulla quale però continueremo a monitorare.